Si sa, a volte cinese è sinonimo di bassa qualità o scadente, ma non facciamoci ingannare appunto da queste parole. Vediamo un po' se il mio smartphone, l'UmiDigi Max, è in grado appunto di coprire questi termini o seppure ci rivela tutto un altro mondo. A voi il video. Il mio smartphone è di produzione cinese, proprio prodotto in Cina, di marca UmiDigi, UmiMax, lo sappiamo già. E in fatto di resistenza, sì, è buono, è abbastanza buono, ma ha anche molti punti a sfavore. Ad esempio, tutto il corpo del telefono, a parte queste due bande al di sopra e al di sotto che sono in plastica, è composto da alluminio 6000. E purtroppo l'alluminio 6000, per chi se lo ricorda bene, nell'iPhone 6 si piegava molto, molto facilmente. Infatti, faccio vedere che bastano piccole cadute per fare uscire fuori appunto queste piccole fasce laterali di alluminio, che appunto si attaccano direttamente allo smartphone e come vedete escono proprio fuori. Appunto, l'alluminio 6000 tende anche molto di più a graffiarsi rispetto all'alluminio 7000 che troviamo nell'iPhone 6S. Eccolo qui, e qui c'è un altro segno, come potete vedere. Vi faccio vedere qui, eccolo qua. Questo pezzo dell'alluminio è venuto letteralmente in fuori. E appunto i graffi, i graffi sì. Sono una pecca dell'alluminio 6000, ma anche dell'alluminio 7000 ovviamente, essendo alluminio anche se è anodizzato, non resiste molto ai graffi, se ovviamente va a contatto con cose appuntite o cose del genere. Qui, come vedete, basta una piccola caduta, qui mi è caduto da circa un'altezza di 30 centimetri neanche. E come vedete si è formata questa incurvatura all'interno, impossibile da riparare. Bisogna cambiare la cover, che purtroppo non è rimovibile, quindi tanto vale cambiare telefono. Al di sotto, purtroppo è pieno di graffi, ma questa è anche colpa mia, perché non l'avevo tenuto la cover. Ma in ogni caso, come vedete, ho dovuto scartavetrare tutti i lati per renderli omogenei, perché si graffiavano in continuazione, anche tenendolo nella cover, che ovviamente le superfici sono esposte. Ad esempio, mettendolo nella tasca dei jeans, che ci sono materiali che possono graffiare facilmente l'alluminio, appunto, si è graffiato. Il vetro. Il vetro è un Gorilla Glass 3, ottimo per quanto riguarda la resistenza, infatti è molto resistente agli urti. Mi è caduto di faccia tantissime volte, anche da considerevoli altezzi, addirittura una volta mentre stavo andando in bici, e non si è fatto niente. Purtroppo, invece, i graffi, vi faccio vedere, che questo vetro è molto, molto affetto da graffi. Vedete? Tutti questi microscopici graffi, che comunque non danno granché fastidio, però sono lì, si vede che ci sono. E vedete, appunto, questi sono tutti i graffi che si sono formati nel corso del tempo. Questo telefono è del maggio del 2017, quindi ha quasi un anno, praticamente, e appunto la resistenza è buona, ma a furia di cadere si danneggia facilmente. La piegatura, ad esempio. La piegatura di questo smartphone bastano due dita, ma neanche, vedete, allora io uso, sto usando tre dita in questo momento, e basta fare un po' di flessione, come vedete. Sento che tende a piegarsi, non lo faccio perché ovviamente è l'unico smartphone che ho, quindi non lo posso fare. La resistenza del display, beh, è abbastanza buona, volendo ve lo posso anche dimostrare. Se mi date un secondo che prendo, ad esempio, una qualsiasi immagine. Eccolo qua, ad esempio, prendiamo la foto di un 6S Plus. Se io metto a contatto questo con, ad esempio, questo accendino, guardate cosa succede. Semplicemente abbiamo il display a contatto con le fiamme, e basta davvero poco tempo perché questo si annerisca, vedete? Torna nero, ma semplicemente basta poco per far dissipare il calore, giusto pochi secondi dopo è già freddo. Ve lo faccio vedere un'altra volta perché mi è venuto un po' male, lo rifaccio. Magari senza bruciarmi, guardate. Essendo un IPS resiste benissimo alle fiamme, infatti i pixel vengono neri, bastano 10 secondi perché tornino neri, ma subito dopo, faccio vedere anche io stesso che dopo un po', vedete? Ad esempio, eccolo qui, questo segno, basta poco e vedete, sparisce. Nell'AMOLED questo non succede, gli AMOLED fanno comparire un segno bianco, e il segno bianco appunto è permanente perché si brucia proprio il display. Bene, il fatto di display appunto è abbastanza resistente, la manifattura del display è buona, il vetro lascia a desiderare, l'alluminio 6000 tende un po' a far allontanare i clienti. Comunque, per essere un telefono cinese è davvero di buona manifattura, e questo ci dimostra che non sempre il cinese è sinonimo di scadente o qualcosa del genere. Poi ricordatevi che in Cina la mano d'opera viene pagata pochissimo, quindi comprendeteli. Questo era un video rapido per mostrarvi magari quanto può essere resistente un telefono cinese, uno smartphone cinese, e noi ci sentiamo presto con un altro video. Ciao a tutti!